Ad oggi siamo ancora in una situazione di stallo perché rispetto alle proposte che noi abbiamo fatto l'azienda non dà ancora garanzie e certezze sia sul cronoprogramma sia sulla ricollocazione dei lavoratori che da ottobre e novembre ricordiamo sono senza stipendio. Quindi noi immaginiamo che questi lavoratori debbano essere ricollocati il prima possibile perché il tempo sta scadendo, ormai sono più di sei mesi che stiamo discutendo e non vorremmo arrivare a fare altre azioni sindacali e legali perché a quel punto vorrebbe dire che si interrompe definitivamente il tavolo. Sono lavoratori in monoreddito che hanno dato tutto a questa azienda, quindi hanno acquisito anche delle professionalità molto importanti e l'azienda non può pensare di lasciarli a casa dopo anni di sacrificio dove hanno acquisito queste professionalità e hanno maturato i requisiti per essere stabilizzati. Noi parliamo di un'azienda virtuosa, un'azienda dove ha acquisito anche investimenti importanti da Invitalia parliamo di quasi 25 milioni di euro che verranno investiti per il nostro territorio e per il lavoro. A fronte di questi investimenti ci saranno anche nuove assunzioni, almeno 55, quindi questo è il nesso che noi riusciamo ancora a capire perché ancora ci sono ostacoli da parte di CMD di regolamentare, finalmente rendere operativo un piano di lavoro.